Bene amici, recensioni flash di questo ZTE Axon 40 e ZTE ci crede ancora, in cosa? Nel display senza foro, guardate, always on tra l'altro perché il display è un AMOLED, ma là in alto la cam anteriore da 16 megapixel è nascosta sotto al display, la tecnologia migliora perché non so se vi ricordate, una volta andando vicini vicini o sotto il sole si vedeva la cam, adesso è molto più difficile perché il display, che è ovviamente un AMOLED in generale, là ha un driver separato e ha una trama meno fitta proprio per riuscire a far catturare la luce alla cam anteriore, vi dico subito com'è il risultato? Non bellissimo, guardate le persone, le scene, soprattutto quando c'è tanta luce, magari la luce che va a insistere sulla telecamera va a creare degli artefatti, degli effetti non bellissimi e le foto con la cam anteriore sono così così, anche con le cam posteriori, ma tempo al tempo ve ne parlo delle cam posteriori, tripla 64 megapixel, quindi sensori Sony di qualità, la qualità, vabbè lo dico subito, da buon medio di gamma, sicuramente non un camera phone, ma abbiamo la periscopica 3.5x oltre alla grande angolare 120 gradi, sia la normale sia la periscopica sono stabilizzate otticamente, belli materiali con questo vetro dietro un po' satinato, non leggerissimo, 204 grammi, abbastanza sottile, 8 mm ed è un po' un ritorno al passato per quanto riguarda il design perché lo schermo è veramente tanto tanto curvo, fortunatamente nelle impostazioni c'è la possibilità di settare l'area dello schermo qua di lato dove non deve captare i tocchi delle mani, quindi anche se si tiene così con una mano, con il palmo non si va a prendere dentro, quindi da quel punto di vista mi piace, ovviamente questo design fa sì che sia praticamente borderless, ma facciamo un salto indietro, il processore è lo Snapdragon 8 di generazione 1, faccio vedere le informazioni sul telefono, Android 12 patch di aprile, la versione software, la MyOS di ZTE, non ha particolari personalizzazioni, è quasi un Android stock e tra l'altro devo dire che le personalizzazioni sia sulle icone, sia sullo sfondo, sia sullo stile di animazioni, l'always on display sono abbastanza importanti, in confezione cosa c'è? Una coverina un po' durina, è in plastica silicone, non ho capito perché non è morbidissima, il caricabatterie 65 watt, lui ha una batteria da 5000 mAh, lo Snapdragon 8, generazione 1 è un processore che fa girare molto forte questo telefono, un po' tutti i telefoni li fa girare molto bene, non è tanto energivoro, ovvio che se lo si utilizza tanto sotto 5G, tra l'altro lui è dual sim, 8 giga di RAM, c'è anche la versione 12, 128 di memoria utente non espandibile, qua c'è il carrellino delle sim, c'è anche la versione 12, 256, UFS 3.1, ma inizia a scaldare un po' se le usate intensamente. Comunque io con la mia giornata stress a sera ci sono tranquillamente arrivato e vi faccio vedere qua negli screenshot proprio la durata della batteria e la discesa della batteria che come vedete è abbastanza lineare, sono riuscito a fare, guardate qua, 6 ore e 27 minuti di display e sono arrivato a sera con un buon 10%, comunque la mia media è di arrivare comunque a sera al 20% di autonomia residua. Non ha la carica wireless, questa è una pecca, c'è il cavo in confezione, le cuffie in confezione con il jack, ma no, non c'è il jack sulla scocca, bensì l'adattatore da micro USB, no, che micro USB, quella era l'epoca scorsa, USB tipo C. Vi faccio vedere come gira e devo dire bene, devo dire bene, ripeto il processore non ha problemi, il software però qualche bacuccio ce l'ha qua e là, adesso ve ne faccio vedere subito uno, però prima vi dico come funziona la vibrazione che è abbastanza buona, il motore gli dà un feedback aptico preciso, non è potentissimo, quindi magari se lo avete in tasca e vi arriva una chiamata non sentite la vibrazione, però devo dire nel complesso va bene, anche come velocità appunto generale di gestione. Il display volevo farvelo vedere con anche il mio classico video 4K HDR, giusto per vedere come si vede un display senza tacca ed è molto molto figo. L'audio tra l'altro è stereo e guardate qua, è veramente un valore giunto, se riuscissero a sistemare quel problemino di vedere un pochino male le foto quando si scattano dalla cama anteriore, veramente questo sarebbe l'uovo di Colombo. Chissà perché i produttori hanno abbandonato la pop-up camera, non lo so, non lo scopriremo mai. E la parte telefonica, bene, ho fatto un sacco di chiamate perché l'ho portato, sono nel mobile in questi giorni, fuori salone, gira, fa e disfaforca, tra l'altro come vedete ho dentro adesso due sim, non c'è la possibilità di registrare la chiamata, alzo il volume al massimo. E quello che mi piace è che il mio voce è stereo, non tanti telefoni hanno questa possibilità. Vi stavo parlando prima di qualche baghettino, vi faccio un esempio, video, ovviamente ho fatto il play, salone del mobile, con Chiara vivremo in case separate, vabbè poi lo vedrete, non so se lo pubblicherò prima o dopo questa recensione, ma sto facendo i video e guardate, ok, wide, perfetto, 1x perfetto, pam, tele, si crash all'applicazione della videocamera quando si cerca di fare un video col teleobiettivo. Vi faccio vedere le opzioni qua della cam, i video si possono girare fino all'8k e la cosa che mi piace è comunque che in 4k si può arrivare a 120 frame per secondo. In full hd, ecco questa è una cosa che non ho provato, vediamo se cresce anche in full hd, no, cresce solo in 4k, ovviamente io i video demoli giro in 4k, però in full hd non cresce, però questo per dirvi che ci sono un pochino di problemi. Tante opzioni, tutte sostanzialmente abbastanza inutili, modalità notte, modalità ritratto, ma andiamo alle fotografie, perché ne fate veramente tantissime in questi giorni. Adesso io ve le scorrerò velocemente, poi, e ve le sto scorrendo, ve le sto facendo vedere, giudicate voi. Ripeto, secondo me ha una qualità delle fotografie da buon medio di gamma, nulla di più. La cosa che mi piace è comunque lo zoom, che funziona bene, ovviamente essendo ottico, guardate questa gru zoomata qua 10x, qua 3.5x, quindi il massimo dello zoom ottico. Questa è la cram normale e questa è la cram grandangolare, però anche con poca luce, fa un po' fatica, non sono proprio ben definiti i contorni. Insomma, chissà poi alla fine come sistemeremo casa nuova. Andare alla zona del mobile quando stai facendo casa è un po' come andare nella fabbrica di cioccolato quando hai fame. Ma, e poi, cioè, vabbè, piccola digressione, piccolissima. C'è una casa da 1000 metri quadrati, per cui la zona del mobile hai delle bellissime esposizioni, cucina da 100 metri quadrati, salotti da 200. Poi arrivate a casa vostra e dite, ma io ne ho 9 di metri quadrati per far stare la cucina. Ecco, i produttori di mobili dovrebbero pensare ad arredare gli spazi stretti, perché ormai nelle metropoli le case sono piccole, ahimè. Vabbè, chiuso il pippone, andiamo alle conclusioni. Quanto costa? Uscirà il 21 di giugno e questa versione, 828, 829 euro al lancio, 949 la versione 12, 256. E è un telefono che non mi ha fatto sobbalzare dalla sedia, non mi ha solleticato, è un po' medioso, talmente nelle prestazioni, perché va bene, per il resto su tutto, la fotocamera, qualche bug, insomma, non lo so. A chi lo consiglio? C'è una categoria di persone a cui lo consiglio, agli haters del notch. E se non avete capito cosa vuol dire questa frase, non è il telefono che fa per voi. Ciao! 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 Ciao!